Buonasera oggi ci troviamo dalla Mari Creative Shopping una location e uno showroom dove la moda e arte vanno a bracetto. Lo showroom è stato aperto un anno fa e adesso chiedo alla proprietaria Maria Rosa come è nata questa idea di unire insieme designer di avvelamento accessori e dell'interior designer? Diciamo che il percorso è nato un po' per caso e partendo dal fashion che è il settore in cui ho sempre lavorato, nel quale ci sono nata, ho cercato di abbinare tutto quello che è arte, tutto quello che è design e quindi tutto quello che è bello. Bene, Maria Rosa, anzi Maria Rosa è tutto il team che lavora con lei, sono stati anche partner del progetto Promenade della Moda che si è svolto qua il 27 settembre anno scorso, il prossimo Promenade credo che ci sarà ancora qui che si svolgerà il 31 marzo. Uno dei nostri designer è stato premiato che la sua collezione sarà esposta qua, ancora non c'è qui, speriamo che arriva. Ecco, voglio chiedere a Maria Rosa se ancora vuole continuare a collaborare con noi, con il nostro progetto. Sì, certo, è stata un'iniziativa, secondo me, bellissima. Era la prima volta per me e quindi era tutto nuovo, un po' difficile, ma insomma la seconda volta verrà sicuramente meglio, immagino. Quello penso di sì perché comunque noi siamo nuovissimi, siamo, come per dire, neonati, anche lo showroom è aperto da poco e da quando ci siamo conosciuti è anche nato un buon rapporto tra noi, quindi credo che collaboreremo in futuro e creeremo magari qualcosa insieme. Porteremo qua dei designer nuovi che anche il pubblico, non solo pubblico italiano, ma anche pubblico turisti che vengono qua a fare acquisti. Intanto io vi invito a fare qua sempre showroom perché ce ne sono cose bellissime, anche Maria Rosa può dirci qualcosa, cosa c'è nel negozio. Al momento ne abbiamo solo brand italiani di designer più o meno emergenti e alcuni in realtà sono già piuttosto affermati. Qualcuno sta nascendo, qualcuno sta spiccando il volo, ma cerchiamo di vestire tutte le donne dai 20 ai 99 anni mettendo l'accento sul colore, sul mix and match, su tutto quello che insomma rende una donna più bella, ma la donna normale. Certo, no no, qua ce ne sono veramente cose bellissime, non vi rimane altro che venire a trovarci qui dalla Mari Creative Shopping in via Capellini 20. Grazie e buona serata.